Champagne, per brindare al buon gusto, Champagne, per l'amico Peppino, per voi, e per chi ci vuol bene, è sempre così bello stare insieme. Champagne, incomincia la festa, vedrai, 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 sì, che ci gira la testa. Ecco là, allora? È il momento complicato perché non sappiamo chi comincia. Come chi comincia? Beh tu. Cominci tu. Beh, io comincerei con il discorso del nord e del sud, cioè colui che è nato al nord rispetto all'altro, un pochino, anche può essere pure pochi gradi, comincia a Capri. Comincio io chiaramente. Cioè? Cioè io sono nato a Capri, quindi. Eh ma allora non ti sei visto bene la cartina. Io ho una cartina, guarda qua, che comincia dalla Sicilia e man mano scende e arriva fino a Milano. Guarda che è al contrario. Ah ma già, questo sta sotto sopra. Vedi Pepì? Vabbè, vabbè. Campo basso, campo basso è un pochino, che so, tre gradi, quattro gradi. Potevi dirlo prima che volevi cominciare tu. Dai, comincio io. Grazie.